Tante persone, tante emozioni per quanto riguarda questa seconda edizione del Memo dedicato a Carola Stortini, quindi posso dire un successo. Un grandissimo successo, sono stati tre giorni, in realtà non sono ancora finiti come vediamo alle nostre spalle, tre giorni intensi di sport, di divertimento nel ricordo di Carola. Quindi un momento veramente bellissimo, abbiamo appena svolto le prime premiazioni delle prime tre categorie, ci sono stati oltre 170 atleti, quindi direi che è stato veramente, la nostra città ha accolto il richiamo e l'appello che abbiamo fatto in questi giorni per venire a ricordare Carola nel migliore dei modi, divertendoci e soprattutto impegnandoci con un progetto molto importante. Giorgio Vinti, bene Presidente, avete ricordato nel modo migliore Carola Stortini? In realtà il torneo è nato proprio per questo, è stata una tragedia che ha colpito tutti noi in prima persona. Dallo scorso anno che abbiamo deciso di ricordare la sua figura nel modo forse più corretto possibile, cioè con il sorriso e il divertimento di quelli che erano i suoi compagni, i suoi compagni di scuola, di squadra. Il fatto che quest'anno si sia creato autonomamente un comitato organizzativo che ha portato moltissime novità e ha fatto sì che il torneo crescesse nei numeri e nella durata, forse è la migliore testimonianza dell'eredità emotiva che questa ragazza ci ha lasciato. Antonio Romelli presente non solo come delegato allo sport in questa circostanza ma anche come giocatore addirittura. Sì, l'avevo promesso alla mamma, era giusto che partecipassi anch'io, veramente devo fare i complimenti alla città di Chiavoli Academy che ha colorato la nostra città di tre giorni di sport veramente importanti. Tantissimi atleti, nel ricordo di una ragazza, di una nostra atleta che non c'è più, con un fine sociale. Ricordiamo appunto questa iniziativa a cui faccio il plauso che verranno donate, delle borse di allenamento, grazie proprio ai soldi raccorti con questa iniziativa. Persone meno fortunate potranno così fare sport gratuitamente grazie appunto a questa iniziativa e nel ricordo di questa nostra concittadina, di questa nostra ragazza che non c'è più. E invece il commento da giocatore? Da giocatore bene ma non benissimo. Ricordi di cose che si facevano un po' prima ma le ginocchia purtroppo non aiutano più tanto però ci siamo divertiti comunque. Grazie a tutti.